allora chi vuole cominciare forza ragazzi nessuno che se la sente vuoi cominciare tu io sì dai prego presentati ciao mi chiamo gaetano e figa ho vissuto a milano gaetano moderiamo i termini attenzione al linguaggio su dai usate tutti questi anni a milano quanti anni sei stato a milano sette anni gaitano no non è così perché leggo nella tua scheda che sei stato più di sette anni mi sono sbagliato a scrivere gaitano noi non siamo qui per giudicarti è vero ragazzi dai su quindici anni ma non è semplice vai avanti vai avanti dai non troppa forza Grazie.